come ci si pone obiettivi a livello finanziario lo dovrebbero fare tutti c'è un momento migliore per farlo o anche chi non ha un euro e skill dovrebbe farlo allora il concetto di obiettivi negli investimenti è sia necessario che una presa in giro è un po come il planning in generale quando si dice plans are useless but planning is everything devi fare dei piani anche se sei consapevole che saltano ogni volta lo stesso vale per le proprie finanze ora gli obiettivi di investimento infatti in realtà se si parla di obiettivi di investimento è un po vuoto come discorso gli obiettivi sono di si allargano un po alla sfera della della gestione economica che non è solo investimento quindi in genere non mi piace fare parlare solo di obiettivi di investimento ma di obiettivi di gestione della propria personal finance che comprende investimento ma nella stessa seduta in cui tu ti siedi a tavolino e pianifichi gli obiettivi di investimento dovresti anche pianificare dovresti anche pianificare in che modo qual è il mio percorso carrieristico o in che modo accumulerò ricchezza oppure cosa voglio dalla vita è difficile scardinare obiettivi di investimento da tutto il resto è difficile e se si arriva al solo investimento si rischia che l'obiettivo sia sempre far crescere i soldi ovviamente ci sono obiettivi concreti in genere più facili da gestire che sono obiettivi con una scadenza precisa del tipo voglio comprare casa a mio figlio quando farà 18 anni oppure voglio pagare un'università privata in america a mio figlio oppure voglio comprare casa da qui a cinque anni obiettivi che hanno una scadenza sono più facili da gestire anche se più difficili da gestire in termini di investimenti però sono più facili da gestire in termini di cash flow cioè capire se per arrivare ad avere un down payment di una casa fra cinque anni che ci vogliono 50 mila euro di down payment quanto risparmio quanto ci vuole quanto devo mettere da parte come posso fare per tagliare il resto quello è molto più facile non hanno a che fare molto con gli investimenti perché in genere se sono obiettivi a termine si sconsiglia di essere esposti a asset con alta volatilità però se parliamo di obiettivi di investimento a lungo lunghissimo termine quello che in genere si va di default è voglio avere una pensione voglio avere un supporto alla pensione voglio arrivare a un certo punto in cui i miei investimenti germano delle entrate passive cioè la famosa rendita passiva da investimenti che sfatato il falso mito che dovrei costruire un portfolio ad alto yield perché sappiamo che i dividendi sono irrilevanti e in generale i profitti sono irrilevanti nel senso che quello che conta è il total return detto questo l'obiettivo appunto in genere è capire quanto pensi di poter prelevare ogni anno dal tuo patrimonio e stabilire che cifra vorreste avere come pensione alternativa e a partire da che età e lì fa il piano di come dovrebbero andare le cose per raggiungerlo si tende in genere a pianificare per il worst case mai per il leverage case il che però fa sì che in questo scenario attuale la situazione è abbastanza misera e quindi il worst case diventa quasi da chi me lo fa fare di espormi a decenni di alta volatilità per neanche la promessa delle generazioni precedenti di avere un bel ritorno dopo l'inflazione quindi quindi non sto rispondendo alla domanda penso che chiunque dovrebbe porsi obiettivi di tipo finanziario ma ancor di più di tipo economico ancor di più di tipo filosofico cioè cosa ci sto facendo qui cosa voglio dalla vita obiettivi di finanziari che espandono in economici espandono in filosofia di vita sono anche cose del tipo voglio sposarmi o no voglio fare figlio no voglio vivere in italia voglio vivere all'estero voglio lavorare per una per una fang voglio mettermi in proprio questo è più importante di tutto poi dopo se si vuole una volta fatto il piano delle cose importanti si stabilisce il proprio desiderato stile di vita a quel punto si può investire pensando a quello solo che c'è un altro problema che nessuno ha idea di quello che vorrà fra dieci anni ma neanche tra cinque figuriamoci fra 20 30 per cui il mio punto di vista è investo per creare una macchina il modo più più sano e il modo più utile per pensare a questa roba qui è quello che ho mostrato in investing for seven generations cioè tu sei custode di un tesoretto che stai costruendo e lo curi come se fosse la tua pianta al tuo giardino e poi lo passerei a qualcun altro nel frattempo mangi i frutti di questa pianta questo è a mio avviso il senso se non in assenza di altri punti fermi e in questo momento i punti fermi sono pochi grazie a tutti